non è mai stato desiderato come stasera? io non mi sono mai sentita così incapace in tutta la mia vita ho fatto un piano speriamo che per un po' io non faccia altri guai allora intanto che aspettiamo che si riconnettano gli ospiti ora analizza possiamo mettere lo schermo grande sul professore? sì certo, senza altro bene lo facciamo anche poi però adesso fai come credi ok in questo momento sì facciamo, lasciamo pure vista galleria poi appena parte il numero aumenta sto aspettando un attimo perché di tornare al numero ma certo, ma certo, certo eravamo 62 certo certo e niente, adesso cominciamo per davvero come vedete per vostra fortuna c'è per davvero il professor Sergio Cristaldi che finalmente potrà, poverino, parlare dopo che l'abbiamo tenuto in scasco e quindi gli darei volentieri la parola lui come diceva prima la professoressa Andreini inaugurerà questo ciclo di incontri e ci intratterrà subito su alcune insomma di chiedente di schema io lascerei subito la parola a lui in modo che si possa incominciare certo, professor Sergio Cristaldi grazie innanzitutto ringrazio gli organizzatori che hanno voluto invitarmi a questo ciclo di letture dantesche grazie in particolar modo ad Annalisa Anacinovic e Caterina Andreini e vorrei partire da una frase di Gianfraico Contini l'impressione genuina del postero dice Contini incontrandosi con Dante non è di imbattersi in un tenace e ben conservato sopravvissuto ma di raggiungere qualcuno arrivato prima di lui così Contini e questo però non sembrerebbe vero non sembrerebbe così vero in un versante della commedia e il versante in particolar modo del profetismo il profetismo dantesco può riuscire specie in alcuni suoi episodi assai poco attraente al lettore di oggi anzi anzi senz'altro indigesto fastidiose sciarade rebus ingarbugliati rompicapi in apparenza senza via d'uscita insomma una palestra per cultori di enigmistica da parte sua il lettore normale ogni volta che si addensano queste nubi ha la forte tentazione di voltare pagina eppure un testo va apprezzato nella sua interezza altrimenti non lo si comprende una lettura della commedia per ritagli magari ritagli più emozionanti non entra veramente in partita rimane ai margini del gioco inoltre un capolavoro del passato merita direi una dislocazione del lettore sempre utile l'avviso di un grande studioso di Dante lo statunitense Charles Singleton non possiamo pretendere dice Singleton che l'opera venga a noi siamo noi che dobbiamo andare incontro all'opera e ne vale la pena perché in questo caso l'opera ha qualcosa da dirci prerogativa di un classico e ce lo ha ricordato Alberto Casadei è rappresentare una volta per sempre una potenzialità umana in questo caso la predisposizione a sviluppare un giudizio sulla società a certificare il suo stato di salute e inoltre a affacciarsi sulle possibilità del futuro voglio dire del futuro collettivo fino a darcene un'anteprima non tanto per gratificare una curiosità semmai per sostenere una speranza e la direzione perseguita dalla profezia e perciò anche da una letteratura che si protenda verso la profezia si capisce che una letteratura del genere debba usare a sua volta il linguaggio profetico quell'assieparsi di espressioni plurivalenti di metafori chiuse di accenni incompleti come mai una simile oscurità gli esperti del settore hanno offerto una duplice risposta intanto si tratta di provocare l'attenzione del lettore del lettore che avverte nel testo una sporgenza vi inciampa e la può magari aggirare ma non può appianarla facilmente è costretto a impegnarsi con essa in secondo luogo il futuro può essere anticipato nelle sue linee generali ma non nei dettagli i dettagli devono restare occulti a salvaguardia della libertà umana cioè non ci si impegna in una gara di cui si conosce tutto in anticipo non solo il risultato finale non solo il punteggio definitivo ma anche ogni singola azione di gioco e veniamo allora al primo canto dell'inferno e alla sequenza sul veltro lo scuro liberatore che è deputato a soccorrere un mondo in crisi la sequenza in parola inizia almeno a mio avviso a verso cento per concludersi a verso cento undici quattro terzine con un totale di dodici versi la piattaforma di lancio e la precedente descrizione della lupa da questa base si stacca a un certo punto la profezia vera e propria ed è bene leggerla cito dall'edizione a cura di Giorgio inglese molti sono gli animali a cui si ammoglia la lupa e più saranno ancora infinché il veltro verrà che la farà morire con doglie questi non ci berà terra né peltro ma sapienza amore e virtute e sua nazione sarà tra feltro e feltro di quella umile Italia fia salute per cui morì la virgine camilla e uriano e turno e niso di ferute questi la caccerà per ogni villa finché l'avrà rimessa nell'inferno la onde invidia prima di partiglia esiste certo una continuità tra la descripzione dedicata alla lupa e l'annunzio profetico che se ne sprigiona la continuità è stabilita da una da una isotopia una calibrata isotopia afferente al campo zoomorfo l'immagine della lupa genera quella del veltro il liberatore è un cane da caccia perché il vizio assumeva le sembianze di una fiera c'è comunque uno scarto tra descrizione della lupa e annuncio del veltro e questo scarto è segnalato dall'adozione di un diverso tempo verbale si passa da molti sono gli animali a cui s'ammoglia un verso ancora al presente a e più saranno ancora un verso in chiave di futuro a partire da qui fino alla fine della profezia il tempo futuro sarà dominante dominante anche se non esclusivo lascia spazio al passato remoto perché il profetismo include da una parte il giudizio sul passato e dall'altra lo scatto verso il futuro la parola veltro viene evidenziata dalla collocazione in punta diverso notevole anche il cumulo di enjambement e allitterazione veltro verrà la jambement separando il soggetto dal verbo incentiva il rilievo forte che si vuole conferire al liberatore l'allitterazione l'allitterazione d'altra parte a temo il fossato contribuendo non poco a qualificare il liberatore stesso il veltro giungerà giungerà sicuramente non possono esserci dubbi al riguardo anzi il veltro è colui che verrà è definito anzitutto dal suo immancabile giungere da notare ancora l'anafora dell'espressione questi espressione che inaugura la seconda e la quarta terzina della nostra sequenza è sempre con funzione di soggetto in questo modo il liberatore gode di un assoluto protagonismo già sul piano metrico sintattico il veltro è antitetico alle ricchezze per la precisione alla sete di ricchezze Dante ci presenta un binomio con segno negativo terra e peltro coinvolti nel rifiuto sono dunque il dominio di terre e il possesso di denaro l'avversario più insidioso comunque è il secondo come mostra la rima veltro peltro cibo del veltro sono invece sapienza amore e virtute in cui alcuni scorgono un riferimento alle persone crinitarie padre virtute figlio sapienza e spirito santo amore è probabile è probabile ma non è discriminante perché l'orientamento verso Dio può essere proprio nel medioevo ciao sia di un attore religioso sia di un attore politico pronto è lecito mettere a fuoco ulteriormente l'identità del veltro fare critica è sempre fare storia della critica ma qualche volta i precedenti vanno chiamati in causa in maniera aperta passiamo allora in rassegna le ipotesi più significative sul liberatore dantesco che sono sostanzialmente tre la prima la prima identifica il veltro con Cristo stesso Cristo nel suo secondo avvento alla fine dei tempi è proposta di lettura antichissima già formulata qualche anno dopo la morte di Dante è sposata da molti autorevoli commentatori dal 300 e del 400 di recente la ripresa Giorgio Barberi squarotti per fare solo il nome più noto ed eminente ma non sono molti altri assieme a lui in effetti l'attesa della fine del mondo datava sin dalla tarda antichità e si era ripresentata nel Medioevo si era ripresentata a intermittenza in successive ondate in successive recrudescenze peraltro questa attesa discendeva tutto sommato da un'impostazione teologica autorevole e ufficiale tra virgolette cioè l'impostazione propria di Agostino secondo Agostino il discrimine della storia è senz'altro Cristo l'incarnazione di Cristo rappresenta il momento in cui il corso storico svolta svolta entrando nella sua base culminante e definitiva con lui con Cristo il regno di cui parlano i Vangeli è già presente si tratta soltanto di aspettare la sua piena manifestazione manifestazione che completa che avverrà alla fine del mondo ma che è già cominciata è già qui è già accanto a noi la fine sarà il momento della rivelazione compiuta ben inteso per Agostino questo momento finale non si può conoscere in anticipo ed è vano cercare di individuarlo coloro che nella tarda antichità o nel medioevo si affaticano a calcolare una data quindi sfondano la sobrietà agostiniana restano però tributari del quadro del vescovo di Ippola veniamo alla seconda ipotesi sul veltro quella che nel cane da caccia scorge un papa un papa angelico ebbe una discreta fortuna nell'ottocento e raccolse poi nel ventesimo secolo le simpatie di qualche interprete di rango ad esempio natalino sapegno questa interpretazione falleva su un nuovo genere di attesa un nuovo genere di attesa molto vivo alla fine del duecento l'attesa appunto di un papa riformatore teniamo conto delle implicazioni di una simile aspettativa che in radice era connessa con la nuova teologia della storia di Gioacchino da Fiore l'abate calabrese vissuto nel dodicesimo secolo le sue dottrine comportavano una svolta profonda rispetto all'escatologia tradizionale cioè Gioacchino rompe con il modello agostiniano secondo l'abbate calabrese l'articolazione della storia non è binaria non comporta due fasi antica alleanza e nuovo patto vecchio e nuovo testamento età che precede Cristo ed età inaugurata da lui e fondata su di lui Cristo in Gioacchino è solo uno snodo di un dinamismo che lo supera bisogna attendere una fase ulteriore una terza età sottolegida stavolta della terza persona trinitaria sottolegida dello Spirito Santo questa terza età o terzo stato Gioacchino usa ambedue i termini risolverà tutte le lacerazioni e le contraddizioni sarà una sorta di paradiso in terra ora il pavo angelico in Gioacchino è una delle figure che governano la transizione dal secondo al terzo stato un veltro papale allora rivelerebbe una adesione di Dante a Gioacchino da Fiore o comunque a un sentire di stampo Gioacchino e tuttavia e tuttavia né il veltro Cristo né il veltro papale reggono a una lettura attenta delle terzine dantesche non posso soffermarmi su tutti i dettagli mi limiterò a evidenziare i versi 106 108 qui si asserisce che il veltro sarà la salvezza dell'Italia quell'umile Italia dove si era combattuta la guerra tra i troiani e i latini i troiani capitanati da Enea i latini al seguito di turno quindi il veltro non è posto sotto un esponente cristologico o sacerdotale bensì sotto il segno delle armi le armi di Enea in cui convergono forza e giustizia kratos ed etos allora non il nuovo testamento è qui in causa con la sua prospettiva del secondo avvento di Cristo e nemmeno in causa l'Evangelium Eternum di Gioacchino da Fiore Evangelium Eternum che nella concezione dell'abbate calabrese equivaleva a una nuova intelligenza della Bibbia a una nuova intelligenza del primo e secondo testamento in gioco invece è l'Eneide di Virgilio con la sua epica delle armi troiane vittoriose nella penisola contro una resistenza indigena e a questo punto ci ricordiamo che il capolavoro virgiliano si era già accampato in questo canto precisamente ai versi 73 75 quei versi che rievocano il rogo di Troia Superba e la venuta in Italia del giusto Enea Dante dunque ha richiamato sinteticamente le due parti dell'Eneide quella del viaggio e quella del combattimento quella immagine e somiglianza dell'Odissea quella sulla scia dell'Iliade due parti che convergono entrambe verso un unico obiettivo la fondazione dell'impero romano la stessa guerra fra Troiani e Latini dovrà portare alla fusione tra i due popoli perché l'impero romano è universale ne era convinto Virgilio lo ribadisce da parte sua anche Dante per tornare alle terzine sul veltro è notevole l'elenco degli eroi che hanno militato sotto gli opposti vessilli la virgine Camilla Eurialo e Turno e Niso di Ferute significativo come ha notato Francesco Bruni che la coppia la coppia costituita da Eurialo e Niso che una delle coppie inscindibili anche verbalmente del panorama letterario occidentale ecco questa coppia risulti qui separata separata per l'innesto del nome di Turno che era addirittura il loro nemico il nemico dei due membri del Tanne ma ci mette sulla buona strada il polisigneto Eurialo e Turno e Niso quindi a per vedere c'è fusione tra questi nomi la separazione verbale della celebre coppia è in vista di una integrazione più ampia l'impero e la cornice unitaria in cui tutti i popoli sono destinati a confluire il veltro allora è un erede di Enea se Enea è venuto in Italia per fondare l'impero analogamente il veltro verrà nella penisola per restaurare l'istituto imperiale da tempo in difficoltà si tratterà di un leader ghibellino oppure di un imperatore anche se è difficile precisare di più ma importa fino a un certo punto perché qualificante è la funzione dell'impero mettere un freno alla cupidigia per stare alla metafora dantesca bloccare l'invadenza e l'aggressività della lupa come il convivio illustra distensamente l'ultimo trattato del convivio che probabilmente è contemporaneo agli anni al tempo in cui veniva scritto il primo canto dell'inferno secondo secondo questo trattato l'imperatore è l'unico essere umano esente da cupidigia possedendo tutto in quanto monarca universale non ha più niente da desiderare e può efficacemente contrastare l'appetito delle ricchezze che devasta i rapporti tra i singoli e gli stati per il 5105 abbiamo a disposizione uno scampolo del tempo che mi è assegnato ma un passo importante già lo abbiamo fatto e quello successivo sarà più agile leggiamo allora la sequenza profetica incastonata in purgatorio 33 si tratta dei versi 37 51 5 terzine per un totale di 15 versi in premessa sarà utile ricordare la vicenda allegorica che precede che precede a partire dal canto 32 un carro ha subito numerose offese e insieme alle offese anche un beneficio che è molto peggiore il dono che un'aquila gli ha fatto delle proprie penne a quel punto il carro si è trasformato in un mostro su di esso sono sorti un gigante e una puttana amoreggiando fra loro il gigante però improvvisamente geloso ha schiaffeggiato la parla e si è risolto infine a rapire lei e il carro stesso ed ecco la profezia furgatorio 33 37 45 non sarà tutto tempo senza reda la guglia che lasciò le penne al carro perché divenne mostro e poscia preda chioveggio certamente è però il narro a darne tempo già stelle propinque segure ad ogni intotto ed ogni sbarro nel quale un cinquecento diece e cinque messo di Dio anciderà la fuia con quel gigante che con lei delinqua e forse che la mia narrazione buia qual temi o sfinge menti persuade perché a loro modo non te letto attuia ma tosto fin li fatti le che solveranno questo enigma forte senza danno di pecore o di piade enigma forte questa è la definizione offerta da Dante stesso e il cuore dell'enigma è il numero ripetute indagini lo hanno setacciato centimetro per centimetro e forse l'errore è proprio quello di cercare in profondità magari la soluzione sfugge perché proprio perché è a portata di mano basta tradurre le tre cifre in lettere latine e praticare un'inversione ottenendo in questo modo dux e alcuni saggiamente hanno fatto così in maniera già persuasiva Ernesto Giacomo Parodi nel 1921 ma altri hanno respinto quello scioglimento pareva loro troppo semplice troppo alla buona qualcuno ha detto è la soluzione che si spaccia nei licei si ha l'impressione che in questi casi in questo caso gli scettici si comportino come gli investigatori di un celebre racconto ottocentesco a firma di Edgar Allan Poe una lettera di incalcolabile valore è stata rubata e si trova notoriamente in una abitazione ma nonostante le perquisizioni numerose la polizia non riesce a trovarla non riesce a trovarla semplicemente perché la lettera è stata lasciata con astuzia sottile in bella evidenza augurandomi di aver maggior fiuto di costoro mi associo alla soluzione del dux ma senza nessun trionfalismo ammesso e non concesso che si possa tradurre 5105 con dux non abbiamo neanche a questo punto una certezza in grado di scacciare tutte le ombre in fondo in fondo un dux potrebbe essere anche una guida sacerdotale per giochino da fiore dux è il papa angelico la prova regina non va cercata allora nel fatidico 1 va cercata nelle sue immediate adiacenze non sarà tutto tempo senza senza reda la guglia che lasciò le penne al carro l'aquila è senza dubbio l'impero il lascito delle penne al carro è la donazione di costantino questo infausto atto di generosità verso la chiesa l'erede dell'aquila per conseguenza non può che essere un imperatore è da qui che possiamo tornare al 5105 al dux e certificarne la natura politica come fa ormai un ampio numero di interpreti tra cui mi piace citare Niccolò Mineo che nel 2018 ha scritto in merito un saggio bene attrezzato l'annuncio che risuona nel primo canto dell'inferno e quello che si alza nel canto finale del purgatorio procedono da una medesima intenzione in un caso come nell'altro si tratta di preparare la strada a un monarca universale difficile però indicarne le precise generalità può darsi può darsi che di volta in volta Dante avesse in mente un individuo particolare in ogni caso ha congegnato ciascuna delle profezie senza specificare troppo senza specificare troppo quanto alle generalità in modo che l'una e l'altra in palcatura restasse in piedi anche se i candidati del momento non si dimostravano all'altezza importa relativamente secondo me anche la distinzione tra vicario dell'imperatore o imperatore in prima persona ciò che giova a fissare è che in gioco sempre l'Aquila quale che ne sia il Baiulo Dante dunque non ha condiviso l'attesa di Gioacchino da Fiore il sogno di inepoca avvenire priva di scompensi smagliature conflitti l'utopia di un mondo futuro all'insegna di una perfezione ben assestata nel terzo stato di Gioacchino l'impero finisce per scomparire finisce per scomparire per il semplice fatto che l'umanità visitata illuminata dallo spirito non ha più bisogno di una guida imperiale Dante al contrario preannuncia la restaurazione dell'impero notiamo l'impero è necessario proprio perché il negativo è sempre presente presente e minaccioso questa persistenza del negativo è un elemento che Dante ha in comune con Agostino per Agostino la storia è sempre invivalenta è un misto di luce e tenebre di peccato e grazia rispetto ad Agostino ben inteso Dante consuma una sacralizzazione dell'impero l'impero che per lui è voluto da Dio ed è destinato a durare sino alla fine dei tempi il punto da tenere comunque è che l'impero è un istituto senza scadenza senza scadenza intrastorica proprio a causa della continuità del male storico istruttivo mettere a fronte la profezia del Veltro è quella del 515 la seconda chiarisce la prima nell'annuncio a inaugurazione dell'inferno l'entità disforica da contrastare è la lupa non bisogna credere però che la disfatta della lupa comporti una scomparsa del vizio dalla faccia della terra la fiera viene rimessa nell'inferno cioè nuovamente assoggettata ai deboli vincoli alle barriere che impediscono che le impediscono di spadroneggiare riguadagniamo adesso la sequenza del 515 qui si dice che il liberatore ucciderà ma ucciderà il gigante della puttana quindi a essere annientato non sarà un vizio non sarà la cupidige sarà il tandem contingente di due potenze effimere con tutta probabilità la Francia la Francia con ambizioni con pretese di egemonia la casa reale di Francia e d'altra parte la curia papale corrotta il loro collasso non segnerà la fine del male storico segnerà l'eclissi di una sua manifestazione di una sua manifestazione particolarmente birulenta quindi l'uscita di scena riguarda il regalismo francese che pretendeva un'autonomia del regno di Francia dell'impero e una teocrazia intemperante quella soprattutto di Bonifacio Ottavo la cupidigia in questo modo scenderà sotto il livello di guardia scenderà di nuovo sotto il livello di guardia ma senza estinguersi tutt'altro la sua ipoteca resterà attiva e sempre necessario sarà l'argine che deve contenerlo il contrafforte della monarchia universale credo legittimo definire la profezia di Dante una profezia imperfetta ma non perché si è rivelata fallace ma in quanto non ha promesso una perfezione assoluta non ha promesso un Eden terreno un'età dell'oro mai vista prima la futura epoca migliore soggiace per Dante alla legge e all'autorità la legge e l'autorità che implicano una condizione umana ferita la vita terrena resta una selva erronea solo che è resa di nuovo attraversabile in definitiva il luogo della piena realizzazione per Dante non è qui è altrove e il problema è garantire il viaggio verso questo altrove il giochimismo è stato definito la rivincita del futuro sull'aldilà la commedia riconquista l'altra vita senza per questo rinunciare al futuro migliore semmai riconfigurandolo come tempo di cammino di un cammino più agile verso la patria vera concludo quale plausibilità conserva oggi il Dante profeta in apertura citavo quella frase di Contini mi chiedevo non so quanto appaia valida anche per il profetismo dantesco nell'otto novecento le quotazioni di Dante profeta si sono mantenute assai alte l'autore della commedia è stato collocato su un piedistallo non solo di artista strepitoso ma di effettivo leggente secondo Brunardi la commedia vuole accreditarsi come vera visione profetica di più Dante sarebbe stato effettivamente convinto di averla ricevuta di più Dante sarebbe stato convinto di appartenere alla cerchia esclusiva di Mosè Geremia Ezechiele Zaratustra Paolo di Tarso Maone Oggi questi entusiasmi sono caduti come testimonia fra gli altri Marco Sant'Agata il maestro di italianistica scomparso da poco in un suo libro del 2012 Dante il romanzo della sua vita Sant'Agata aveva sottolineato la marginalità del Dante storico un vinto un esule un isolato ecco allora il suo modo di reagire alla sconfitta rovesciare la realtà proiettandosi nel futuro il che commenta Sant'Agata può essere un modo di sfuggire alla realtà la lucidità di Sant'Agata riesce un contraveleno al mito di Dante autentico profeta la commedia di questo sono personalmente convinto la commedia è una finzione letteraria resta che Dante ha espresso un'esigenza universale ha espresso per sempre un'esigenza universale quella di un riscatto da una emergenza che prema e in questo senso noi avvertiamo il suo annuncio ancora vitale fatto per noi vi ringrazio grazie mille professore e professore cristaldi questa bella bella ricognizione delle profezie e anche così insomma attenzione a una loro interpretazione in altra chiave io direi che insomma se grazie mille Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.